Bentornati su MyFootballJersey. In onore del Napoli, campione d'Italia, fresco campione d'Italia e di Maradona, oggi vediamo la maglia dell'86-87, appunto del Napoli, la maglia di casa di Diego. Grazie per la visione! La maglia è fatta molto bene, ovviamente è una maglia retro difficile paragonarla con quella che era veramente quella di allora. Il costo lo vedete qui sopra, questo però possiamo dire veramente molto conveniente e vantaggioso. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito questa e altre splendide maglie che vi attendono. Prima di lasciarvi, se il video vi piacciono, se volete avere nuove recensioni, mi raccomando iscrivetevi. A voi non costa nulla, ma ci permette per appunto di mostrarvi sempre nuove maglie. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.